Loredana Lecciso svela la verità sull'amante, l'amore con Albano oltre il matrimonio La storia più intensa e complicata di quanto immaginiamo.Loredana Lecciso, nome noto nel panorama televisivo italiano, torna sotto i riflettori con delle rivelazioni sorprendenti sulla sua relazione con il celebre cantante Albano Carisi In un'intervista rilasciata da Loredana, ha raccontato dettagli intimi di un amore che va ben oltre il vincolo del matrimonio Scopriamo insieme tutto quello che hanno passato.Amante di Albano, Loredana Lecciso racconta rivelazioni dure La storia tra Loredana Lecciso e Albano è cominciata nel lontano 2000, ma non ha mai raggiunto l'altare Albano mi ha chiesto di sposarlo, ma ho preferito continuare ad averlo come amante, ha dichiarato in una intervista rilasciata di più, senza mezzi termini Nonostante le pressioni sociali e le aspettative del pubblico, i due hanno deciso di non formalizzare legalmente il loro legame Questo scelta può sembrare insolita, ma per Loredana rappresenta la forma più autentica di amore Stare insieme mentalmente è la sensazione d'amore più intensa che possa esserci, ha affermato E aggiunge, con un tocco di ironia, che c'è anche un filo di scaramanzia, poiché mai come ora lei e Albano si sentono sereni insieme Loredana ha descritto la loro vita quotidiana come una serie di serate tranquille a collina, in cui Albano si dedica alla cucina e alla musica Ci ritagliamo il nostro spazio, godendo delle piccole cose della vita, ha spiegato Questa visione di Albano in versione casalingo può sorprendere, ma per Loredana è una testimonianza della loro autenticità e felicità condivisa Tuttavia, nonostante il loro legame profondo, le tensioni con la ex moglie di Albano, Romina Power, sono sempre presenti Romina ha dimostrato in più occasioni di non accettare pienamente la presenza di Loredana nella vita del cantante Le critiche del pubblico e l'attesa di un possibile matrimonio sono una costante, ma per ora i due sembrano soddisfatti della loro scelta Loredana ha lecciso, al di là del gossip e delle polemiche, ha rinunciato alla carriera televisiva per dedicarsi alla sua famiglia I miei figli sono tutto per me, ha dichiarato, evidenziando la sua priorità nel seguire e supportare i suoi figli nei loro percorsi Nonostante le offerte ricevute per partecipare a programmi televisivi, ha preferito restare vicina alla sua famiglia Il suo sogno, ora, è tornare in tv con un progetto tutto suo. Una speranza che nutre per il futuro, consapevole che la sua priorità rimane sempre la famiglia Loredana ha lecciso si rivela così non solo come un personaggio pubblico, ma anche come una donna forte e determinata, capace di fare scelte controcorrente pur di seguire il proprio cuore Ciao